Alvia, la campagna che prevede l'esecuzione di test sierologici nelle farmacie abruzzesi. L'iniziativa è frutto di un accordo sottoscritto tra Regione, Federpharma e Assofarm. Il test in questione, che verrà eseguito su base volontaria, è quello sierologico, con ricerca anticorpi IgM, quelli che compaiono nella fase iniziale, a pochi giorni dall'esordio dei sintomi, e tendono poi a sparire abbastanza rapidamente. e anticorpi IgC, che compaiono un po' più tardi rispetto all'Igm, ma durano molto più a lungo. Avranno diritto all'esame gratuito il personale docente e non docente, gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie, medie e superiori, oltre ai loro familiari conviventi e gli studenti universitari residenti in Abruzzo. Il costo è di 15,58 euro per chi non rientra tra queste categorie. I soggetti dovranno dichiarare di appartenere a tali categorie con apposita autocertificazione. I risultati saranno inseriti direttamente dai farmacisti nella piattaforma ATRA della Regione, nella quale confluiscono tutti i dati dell'andamento epidemiologico. Ad aderire circa il 60-70% delle farmacie della nostra Regione, i test sierologici saranno effettuati solo previa prenotazione. Con questo test infatti possiamo vedere immediatamente se il paziente è entrato in contatto con un potenziale Covid, perché riusciamo a vedere sia le monoglobuline della memoria, quindi se ha avuto un contatto in passato, sia le monoglobuline che vengono invece prodotte immediatamente. Ci vuole qualche giorno per produrre queste monoglobuline, quindi nell'arco di qualche giorno possiamo già vedere se il paziente è entrato in contatto. Come stanno andando questi test? Sono arrivate già tante persone? Sì, abbiamo infatti una lunga fila fuori, andiamo su appuntamento proprio per evitare eventuali problematiche di intasamento. Ne abbiamo tanti, ne facciamo almeno 10-12 al giorno, anche di più a voi. Diciamo che basta solo un piccola goccia di sangue per avere questa testa. Sì, sì, è assolutamente pratico, veloce, ci vogliono 15 minuti più che altro di attesa, perché facciamo soltanto un pizzico sul dito, quindi adatto anche a bambini piccolini che vanno anche all'asilo, eventualmente se fossero stati esposti a un eventuale contagio. in un attimo facciamo, quindi in un quarto d'ora già si sa la salute del paziente.